Viginium, l'ente che in Francia si occupa di disinformazione e interferenze digitali straniere, ha dichiarato in un rapporto di aver scoperto una rete di manipolazione delle informazioni e propaganda riconducibile alla Russia. Portal Combat, questo è il nome in codice per descrivere la rete, racchiude 193 siti web che utilizzano il nome Pravda, verità in russo, e si rivolgono in particolare a Francia, Germania, Spagna, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti per diffondere narrazioni fuorvianti riguardo alla guerra in Ucraina. La rete coinvolge anche social media, tra cui Telegram, attraverso una massiccia automazione della condivisione di contenuti.